Allora, fammi capire, spiegami, qual è il tuo problema? Il problema è uno solo, dottore, che nessuno mi capisce. Vabbè, cosa intendi dire? Cioè, spiegami. Io parlo e nessuno mi capisce. E che... cioè? Cosa intendi? Cioè, proprio non mi capiscono. Ma non riesco a percepire. Perché parlo e non mi capiscono. E quindi intendi dire cosa? Esprimendomi gli altri non mi capiscono. Non riesco a comprendere.